Buongiorno a tutti e benvenuti a questa mattinata in ricordo di Nadia Caiti. Oggi siamo qui per ricordare appunto Nadia Caiti, il suo impegno di ricercatrice militante, come si definiva essa stessa, e lo faremo attraverso gli interventi che scandiranno questa mattinata. Il progetto che caratterizza questa giornata, voluto da CGL Istoreco, è nato proprio per riprendere la figura di Nadia, per ricordare i suoi molteplici impegni nel sociale e nella ricerca che ha condotto. Nel pomeriggio ascolteremo le voci delle protagoniste che hanno animato il dibattito politico e sociale nelle fabbriche di cui si è fatta portatrice attraverso i suoi libri. A Nadia piaceva fare le cose in modo rigoroso, un rigore che ha trasfuso nel suo lavoro di storica, restituendoci studi sempre ben annotati e circostanziati. C'era passione in Nadia, una passione che le ha fatto scegliere nel corso della sua esistenza di stare da una parte precisa, quella delle donne, e con ragione e sentimento ha interpretato sino all'ultimo i propri compiti di educatrice. Infatti era insegnante, socio della Società Italiana delle Storiche e si è occupata da anni di storie orali, di memoria del movimento operaio e in particolare delle donne. Meticolosa nell'analisi dei documenti storici, scrupolosa, osservante della metodologia scientifica di ricerca della raccolta delle fonti orali, ricca di idealità, convinta che le donne non occupassero socialmente il ruolo che meritavano nella società. Si è impegnata instancabilmente, senza sosta, in una ricca, complessa e faticosa ricerca, unica nel suo genere, perché ha saputo coniugare storie passate e recente, storie di donne native e migranti, con diversi approcci, storico-politico, sociologico ed economico, e possiamo dire unica e ultima per la bassa, con il volume dagli anni 70 al 2000, donne della bassa reggiana, tra sogni e politica di ieri e di oggi. Numerose e importanti le sue collaborazioni con Istoreco, dove si ricordano i suoi studi sul fascismo e sulla resistenza. Anche nel lavoro svolto per lo SPI e per la Camera del Lavoro di Reggio Emilia, si è impegnata instancabilmente, senza sosta, in una ricca, complessa e faticosa ricerca, coniugando storie passate e recente. Il suo lavoro, una vita professionale offerta al mondo, il desiderio mai venuto meno di trasmettere ai più giovani il suo sapere vivo, sempre attuale e coinvolgente, il suo impegno nella ricerca storica, appassionato e rigoroso. La documentazione raccolta con determinazione e riesaminata mille volte con scrupolo infinito. Il metodo intransigente, la cura puntuale delle pubblicazioni l'hanno sempre caratterizzata nel suo percorso di lavoro. Ma soprattutto ricordiamo la passione per i temi che le sono stati cari. Il femminismo, il movimento delle donne, lo studio sulle origini e sui mutamenti, sulle ragioni di quei sommovimenti e pensieri che hanno scosso il mondo e hanno animato anche la nostra piccola comunità locale. Gli interventi che seguiranno andranno a raccontare queste molteplicità e questo rigore scientifico. Grazie. Passo adesso la parola a Romeo Guarnieri che condurrà all'intervento il primo lavoro, La memoria dei rossi. Io ho il compito di ricordare il primo lavoro di Nadia, il primo lavoro che si è tradotto in una pubblicazione, questa qua forse qualcuno la ricorderà, del 1996 che è stata realizzata a cura della Camera del Lavoro. Però ecco, in questo lavoro sono raccolte le testimonianze che sono state realizzate una quindicina di anni prima. Cioè sono state realizzate nell'ambito del lavoro di preparazione della tesi di laurea sulla quale io ho lavorato in modo parallelo, diciamo, con Nadia, con un argomento simile ma non identico, diciamo, e una tesi che è fatta con il professor Casali di Bologna, nell'ambito della storia contemporanea, una tesi che aveva come titolo per Nadia, lo leggo perché è importante a mio avviso fermarti un attimo su un problema. Cioè ci sono due tempi diversi, un tempo in cui furono realizzate queste interviste e un altro tempo in cui furono tradotte in una pubblicazione, un libro che le rese poi, diciamo, di più larga diffusione, insomma, più note. Allora il titolo era Riformismo e Leninismo, la nascita del partito di massa a Reggio Emilia Reggio Emilia nelle testimonianze del primo comitato federale, titolone che però comprende un po' tutto, insomma, nel senso che l'argomento, insomma, la tematica che il professor Casali sviluppava in quel periodo, non era questo il primo lavoro, era relativa al problema del passaggio nella nostra realtà locale, come per la verità in diverse altre realtà, dalla egemonia, diciamo, dalla cultura, della storia socialista, del socialismo prefascista, all'egemonia del partito comunista, no? Chiedersi il perché, come questo si afferma nel secondo dopoguerra, no? Naturalmente problematica complessa, eccetera, eccetera. Allora questa tesi è stata realizzata e presentata nel 91-92 e, scusate, 81-82, non 91-92, e comprendeva una tesi vera e propria e un allegato, un allegato voluminoso nel quale erano contenute queste testimonianze. Si tratta di testimonianze che erano di media di più di due ore l'una, no? Quindi potete immaginare si tratta di un 400 pagine circa, di trascrizioni che sono trascrizioni fedelissime, trascrizioni della testimonianza integrale, riportando, come era, insomma, nella metodologia che c'era stata indicata, in maniera molto fedele il racconto del protagonista e della protagonista. Ecco, queste tesi furono poi depositate presso l'Istituto Storico della Resistenza, presso l'archivio della Camera del Lavoro e naturalmente dopo, negli anni Ottanta, furono note, conosciute, studiate da diverse persone che, diciamo, erano un po' a conoscenza di questo tipo di istituti, frequentavano questi ambienti, diciamo, no? Un momento di ulteriore, diciamo, di diffusione maggiore rispetto al lavoro di Nadia è stata la pubblicazione su ricerche storiche di un numero di dicembre 1988, nel quale si riproduceva la sua intervista con Valdo Magnani. In quel periodo si era tornato un po' anche, diciamo così, in discussione questa problematica, Valdo Magnani, personaggio, e nella tesi di Nadia effettivamente due personaggi di rilievo nazionale erano stati colti, diciamo, Valdo Magnani e Nilde Iotti. Ecco, poi però, ecco, questa tesi, però, insomma, rimase lì, in quell'ambito, diciamo, no? E nella tesi, ecco, qui vorrei fare un momento di fermarmi un attimo su un problema di tipo particolare, cioè si tratta di una tesi di storia orale, storia orale problematica che poi, di cui eventualmente Canovi potrà dire di più, che in quel periodo era abbastanza nuova, diciamo, non nuovissima, altri lavori erano stati fatti, ma era tra, diciamo così, i metodi che in quel momento non erano stati tra i più frequentati. E la problematica della storia orale pone alcuni problemi di tipo metodologico e anche il fatto che, Nadia, si trova l'affermazione anche qui nel titolo della giornata di oggi, si considerava, sarà considerata una ricercatrice o storica militante. Che cosa vuol dire storica militante? Storica e militante. Allora, a mio avviso, significa qualcuno che si approccia, diciamo, alla ricerca storica con una dichiarazione più chiara, esplicita dei punti di partenza. Tutte le analisi, le ricerche storiche hanno dei punti di partenza, dei punti di vista che rispondono in particolare alla contemporaneità, le domande che il presente pone rispetto all'interrogazione e alla ricerca sul passato. Per lo storico o la storica militante questo avviene in una maniera più esplicita, avviene in una maniera più esplicita e questo va tenuto presente, sia rispetto ai temi che si scegliono, sia rispetto alle interpretazioni. La cosa va detta in maniera esplicita, in maniera chiara, in maniera, diciamo così, non cercando, non nascondendo. Con la storia orale, poi, c'è un problema di complicazione ulteriore e cioè la storia orale ha un rapporto con la contemporaneità, cioè il momento in cui la si fa, che è ancora più complicato, perché implica anche la soggettività della fonte, cioè chi viene interrogato. Perché nella memoria, nella raccolta della memoria, il presente si unisce al passato, diciamo, e nel ricordo non entra solo il fatto, la narrazione di un fatto, entrano i sentimenti, il modo in cui il passato si è vissuto, ma soprattutto entra il modo nel quale colui che racconta, colui che ricorda, reinterpreta la sua vita, dà una giustificazione alla sua vita, alla sua storia. Quindi questo va tenuto presente. E quindi, ecco, il lavoro dello storico, della storica militante è un lavoro che deve sempre tener conto, lo dicono anche da quel che ne so, anche coloro che attualmente sono impegnati in questo ambito, tener conto, diciamo, di una negoziazione continua, come si dice, tra se stessi, il punto di vista dello storico e il punto di vista di chi ha fatto quell'esperienza, si è riconosciuto in quell'esperienza. Secondo me, questo tipo di atteggiamento era presente nell'ampia introduzione metodologica che appunto Nadia premise alla sua tesi, alla sua tesi vera e propria, che era nel merito in riferimento, riferita a quell'argomento che vi dicevo prima. Ecco, e questo tipo di impostazione, cioè l'essere storico militante, ha, a mio avviso, un po' condizionato anche una certa lettura che del lavoro di Nadia è stata fatta negli anni Ottanta. Cioè si è vista un pochino l'approccio, il lavoro prodotto, quella grande mole di documenti, come è condizionata, non negativamente necessariamente, da questa essere dentro una storia, dentro una cultura dall'essere la ricercatrice, come dire, considerata dai testimoni una sorta, e dalle testimoni anche, una sorta di erede, no? Alla quale trasmettere la propria storia, la giustificazione della propria storia, un elemento di continuità, quindi. Per questo, quando il libro fu pubblicato nel 96, le cose erano cambiate, nel senso che il partito comunista non c'era più. Sappiamo che ci fu, diciamo, tutte le vicende relative al 1990, il cambio del nome, eccetera, eccetera, e la pubblicazione stessa del libro, del volume, è stata voluta dalla Camera del Lavoro. Se non fosse stata la Camera del Lavoro a pubblicare, diciamo, questo, raccogliere in un volume estremamente voluminoso, appunto, questa quantità di memorie, oggi sarebbero queste memorie depositate presso gli archivi, e punto, e basta. Sarebbero patrimonio, diciamo così, di chi frequenta questi luoghi, che sono tanti, per fortuna, ma non tantissimi, insomma, diciamo così. Allora, questo perché evidentemente anche il sindacato si pone il problema della propria identità. Il sindacato degli anni 90 è un sindacato che ha passato, il CGL ha passato diverse fasi della sua storia, no? Di crisi e cambiamento, fin dalla fine degli anni 70. È un sindacato che si è posto il problema della propria memoria. Per quel che riguarda Reggio, negli anni, tra gli anni 80 e 90, si decise, ad esempio, di costituire l'archivio storico. Si decise di porsi il problema della memoria, attraverso l'organizzazione di momenti particolari, che poi sono culminati nel 2001, con tutto quel lavoro che è stato fatto sul centenario della Fondazione della Camera del Lavoro, ma i momenti sono stati altri, insomma. Quindi si è sentito questo problema dell'identità. Per cui il problema che oggi, che io mi sono posto, rileggeco, scusate se adesso vengo a bomba, forse ho girato un po' troppo ampiamente, ma nel momento in cui ho riletto la tesi di Nadia e soprattutto alcune testimonianze, quelle delle donne, cinque donne Nadia intervistò in quel lavoro. Rileggere dei testi a distanza di quasi 40 anni vuol dire quasi leggerli però, vuol dire che è quasi una lettura nuova e non una lettura datata. E allora mi sembra di poter dire, e dico la mia opinione, che non è possibile racchiudere quel lavoro in quella stretta, diciamo così, veste di un lavoro, sia pure importante, interessante, che ha datato, insomma, anche un certo, che ha proposto un qualche cosa di nuovo, riferita alla storia del PC. È importante che storia, come diceva quel titolo che vi dicevo, il Comitato federale, il testimoniale, il primo Comitato federale del Partito Comunista italiano, naturalmente, no? Secondo me c'è qualcosa di più, per cui questo tipo di lavoro non è soltanto una sorta di esercitazione per quel che sarebbe venuto dopo, vale a dire tutti i lavori di cui si parlerà successivamente relativamente alle pubblicazioni, alle ricerche che Nadia ha fatto, ma c'era qualcosa di più. Abbiamo 20 minuti, io ho ancora una decina di minuti più o meno, quali sono le sollecitazioni, diciamo così, che mi sono venute rispetto alla lettura, alla rilettura di queste testimonianze e delle analisi che Nadia ne fece, perché nel libro, il libro, nella memoria dei Rossi, alle testimonianze viene premesso una breve biografia della persona intervistata, ma in realtà l'analisi che ne era stata fatta e che era presente nella tesi era più ampia, un'analisi che andava un po' più a fondo rispetto ai caratteri della testimonianza. E allora questo qualche cosa di più su che cosa si potrebbe a mio avviso individuare? Anzitutto sulla questione della storia delle donne, perché questo è un po' il tema che fin da quel momento era presente nell'impostazione anche di Nadia, cioè la problematica della liberazione, emancipazione, eccetera, eccetera. Sono considerazioni che a mio avviso vanno oltre la dimensione appunto che si possa racchiudere nel rapporto tra testimoni e partito, che sia pure importantissime fondamentali, nessuno può sognarsi di dire che non fosse importante per quelle militanti il partito o il ruolo che il partito aveva, però c'è qualche cosa di più rispetto a quel che secondo me è stato colto, vale a dire si tratta di cinque, come dicevo, testimoni, di cui una un po' particolare, Neil Deiotti, perché Neil Deiotti, insomma, che fu intervistata da Nadia nel suo ufficio, era Presidente della Camera nel 1981-80, aveva una sua storia diversa. Le altre erano persone, donne che venivano dai ceti popolari, dai ceti operai, erano operaie, braccianti, eccetera, eccetera. Ceti, insomma, che poi erano quelli del partito comunista, insomma, nei quali si realizza questa egemonia del partito comunista. Allora, il ruolo del partito, com'è che queste donne vedevano il ruolo del partito? Che fosse importante, dicevo prima, è fuori discussione. Però, ecco, partiamo da un fatto, cioè tutte queste donne ricordano che nella loro esperienza di resistenza, tutti hanno fatto la resistenza, c'era un grande interesse per i discorsi, no? Chi faceva i discorsi? Chi faceva quel tanto di formazione politica? Erano i dirigenti, maschi, naturalmente, no? Di solito coloro che, come poi viene analizzato nella sua tesi, eccetera, provenivano da quelli che erano stati perseguitati politici, che erano stati in carcere, che tornano, che hanno un grandissimo prestigio nei confronti di chi si riconosce nel movimento. E queste donne hanno, sono nel movimento e hanno, vogliono conoscere e vogliono impadronirsi delle parole di questi uomini, perché questi uomini sono quelli che hanno la parola, possiedono la parola e loro, che si sentono pienamente dentro il movimento, la parola non ce l'hanno tutta, non la possiedono ancora compiutamente. La parola che questi uomini portano è l'interpretazione del mondo, è l'interpretazione della politica del Partito Comunista, evidentemente, in quel momento, per loro, per questo gruppo. Ed è quel modo nel quale loro si diventano, diciamo così, in grado di possedere di più la parola. E' importante, secondo me, questo, che queste donne hanno ben chiaro che il movimento di cui sono protagonisti tutte, non è quello che è ancora, anche nel dopoguerra, non è quello che è ancora in grado di mettere in discussione il ruolo delle donne. Lo dico no. Malavasi sostiene, con le sue espressioni molto efficaci, insomma, che il movimento, la partecipazione alla lotta di liberazione non aveva scalfito il costume tradizionale, per cui la donna era subordinata nella famiglia, ma anche fuori, perché poi, in una testimonianza, e siccome finita la guerra, si ricostruiscono le reggiane, le donne vengono messe fuori, erano entrate in fabbrica durante la guerra per effetto di quella grande espansione che la fabbrica aveva avuto, poi finita la guerra, quando c'è un enorme problema di occupazione, vengono messe fuori, però le donne, e questo è una scelta che fanno anche i sindacati, che fanno i partiti, insomma, non è che venisse da qualche altra parte. E però, ecco, questo è un punto, però queste stesse donne ricordano, e le testimonianze questo ce lo fanno vedere, perché le testimonianze hanno un respiro lungo, si diffondono anche rispetto alla formarsi della cultura di base, degli elementi di visione del mondo che si cominciano ad acquisire nell'infanzia. E allora, per queste donne, protagoniste della resistenza, eccetera, sono state importanti le loro madri. E le loro madri, chi erano? Si ci dovrebbe chiedere un po' anche questo. Le loro madri facevano parte di quel gruppo, di quel gruppo, di quel ceto sociale, che nei primi del 1900, perché queste donne, la loro data di nascita va dal 1909 al 1927, no? Le cinque che abbiamo, di cui stiamo parlando. E le loro madri erano quelle donne che avevano vissuto quel grande momento di trasformazione nel quale il movimento socialista era diventato egemone tra i centri sociali popolari dalle nostre parti, contadini e operai. Queste donne nel ruolo familiare continuavano a ricoprire, a fare, insomma, davvero un ruolo subordinato. Però vivono questo cambiamento, quel cambiamento per cui si passa dal mondo, da una visione del mondo in cui il proprio collocazione e il proprio destino, il proprio ruolo è destino, a quella situazione in cui diventa scelta, possibilità di scegliere. E la prima fase, diciamo, questo riguarda anche gli uomini naturalmente, no? E questo riguarda prima di tutto l'ambito del lavoro, l'ambito del lavoro, l'ambito del modo in cui si vede il lavoro, da destino che è così e non si può che accettarlo come è, a luogo nel quale si attua anche la propria liberazione, la propria emancipazione. Questo è il passaggio che riguarda tutti. E queste donne, queste madri, che ruolo hanno allora? Perché queste nella famiglia o nel lavoro continuano ad avere la subordinazione di prima. Però come sono ricordate dalle figlie? Sono ricordate in un certo modo, ma Lavaggio ad esempio ricorda che la madre diceva, prima del fascismo si lavorava volentieri, si cantava quando si andava al lavoro. Un'altra, Belli Avallini, qualcuno di voi l'avrà anche conosciuta, Mondina, ricorda che nell'ambiente, per lei la formazione è quella delle Mondine, nell'ambiente delle Mondine, vivevano ancora, vorrei leggervi, temo di andare un po' oltre qualche parte delle loro testimonianze, nell'ambiente delle Mondine anni 30, lei è Mondina negli anni 30, dai 14, 15 e 19 anni, quindi diciamo piuttosto presto, dice il nostro discorso era spesso impregnato di sentimenti socialisti che alleggiavano allora una società più giusta, l'uguaglianza, la fratellanza, erano gli ideali che avevano percepito le masse popolari nelle precedenti lotte socialiste, eccetera, eccetera. E ricorda le canzoni anche di Anarchiche, la nostra patria e il mondo intero, o i canti delle Mondine che cambiavano le parole di giovinezza, che era un canto che andava in voga, era un campo fascista insomma. E allora diceva la mia formazione è venuta lì. E poi dopo ancora, non so, un'altra, Rina Manzini, forse qualcuno di voi avrà conosciuto anche questa, ricorda la solidarietà che nell'ambiente sociale, di fronte alle condizioni di miseria, è rimasta orfana con quattro fratelli, si manifesta in tutti i modi e ancora questo elemento della solidarietà che l'accompagna in tutta la sua esperienza. Lei dice a un certo punto che, alla conclusione insomma della sua riflessione, che abbiamo vissuto di solidarietà, per dire, no? Ecco, quindi, dicevo prima, tornando un po', cercando di tornare appena al discorso di prima, c'è anche quindi questo aspetto del ruolo delle madri. Allora, ecco, per tornare al discorso su cui mi sono un pochino perso, del ruolo del partito, no? Allora, questo partito, del quale ambiscono a far parte, di cui si sentono parte fino in fondo, però è quell'ambito, diciamo, nel quale si racchiude tutto l'inizio e la fine o invece è uno strumento? A mio parere è uno strumento, è uno strumento e viene vissuto come tale, è un po' diverso il punto di vista, no? È uno strumento perché se è uno strumento vuol dire che c'era qualcosa prima e c'è anche qualcosa dopo, rispetto a quando questo strumento non c'è più, insomma, no? Per cui, ecco, a mio avviso emerge anche questo dal lavoro fatto da Nadia. Dice a questo proposito sempre la solita Malavasi, persona che tutti ricordiamo con piacere, vero? A proposito del partito, tu dicevi, rivolta a se stessa, noi non avremo, parlando della sua esperienza durante l'esistenza e subito dopo, noi non avremo la capacità fino in fondo di far emergere i problemi delle donne, però è il partito che deve avere questa capacità, non le donne, perché le donne fanno parte della società, quindi il partito è uno strumento. E poi ancora sempre la solita Malavasi, no? Persona peraltro di grande simpatia come ricorderete, dice a un certo punto, cioè questo lo dice Nadia, concludendo la sua analisi riguardo alla testimonianza, dice Nadia di avere avvertito una certa diffidenza verso di lei, a differenza dell'intervistatore uomo, che ero poi io, no? Per il desiderio, dice, di difendere l'azione del partito per i diritti delle donne da una incomprensione di attivisti e attiviste contemporanee, perché Nadia era vista anche come portatrice, come in effetti era, delle istanze del femminismo negli anni 70, nelle quali c'era anche la critica rispetto al partito. Questo è evidente, no? Per cui insomma c'è un po' tutta questa quantità di elementi, a mio avviso, che permettono di dire che c'è una, così, rispetto a un lavoro di memoria, a un lavoro di recupero che, insomma, nell'ambito del lavoro della Camera del lavoro si vuole fare, che rende ancora interessanti queste testimonianze. Se ho un minuto ancora un'ultima considerazione che è questa, sempre leggendo, rileggendo, di fatto leggendo le testimonianze di queste donne che risalgono ormai a quasi 40 anni fa, appunto, che per me ci permettono di tornare indietro, diciamo, per certi versi all'inizio del secolo scorso. Ci sono alcuni termini, alcune parole importanti. Allora, mentre nell'intervista di Neil Dejotti, presidente della Camera, quel del 1980, il termine chiave, diciamo, cioè il motivo per il quale lei aderì al Partito Comunista e aderì nel 46, la Jotti non aderì durante la Resistenza, è che a fronte della caduta, della disgregazione che lei vede affermarsi nel paese, in Italia, nel 43, seguito all'armistizio, seguito a tutte le vicende del 43, l'unico, coloro che apparivano come i più conseguenti nell'antifascismo erano i comunisti e soprattutto lei sottolinea il fatto che i comunisti erano portatori di una istanza unitaria, no? La parola d'ordine era unità, unità antifascista per ricostruire l'Italia. Lei legge un po' così, insomma, la sua vicenda, il suo ricordo di quegli anni nella testimonianza. Nelle altre donne, a mio avviso, il termine che è più ricorrente è quello di solidarietà, cioè noi abbiamo solidarietà e emancipazione rispetto ai temi del lavoro. Il ruolo che già coinvolge anche queste madri, come dicevo prima, c'è questi testimoni. Che ricorda, lei era figlia di un contadino povero che viveva, essendo perseguitato, insomma, doveva accontentarsi di poderi, diciamo così, di collina non molto produttivi e con la figlia che era attiva nella resistenza, la madre che era, il padre che era a sua volta attiva nella resistenza, tutto il peso ricadeva sulla madre. Quindi si doveva fare carico di tutto questo, diceva ma lo faceva volentieri. E poi, ecco, sempre come il lavoro, come emancipazione. Teresa Vergali frequentava l'istituto magistrale e lei ricorda gli enormi sacrifici per farla studiare, per pagare le tasse di iscrizione. Per cui la madre teneva i bacchi da seta in una condizione allucinante perché non c'era il posto su per le scale e su per il solaio. Mi ricordo questi bacchi e il loro puzzo, dice. Quindi era il, diciamo così, il sacrificio estremo per poter andare verso quella via, diciamo così, l'istruzione, possedere quindi la parola che era la via della liberazione. Poi però anche le altre, dicevo, il discorso della, quindi la solidarietà della madre, ma il problema della solidarietà in generale. C'è una affermazione singolare di Veglia Vallini, anche lei poi fu anche amministratrice, eccetera. La quale ricorda le lotte contro i licenziamenti delle donne nei calzifici, questo già negli anni 40, tra gli anni, fine anni 40 e iniziano 50, in cui diceva che la preoccupazione era quella di gestire la solidarietà, no? Delle altre categorie. E ci fu sempre la solidarietà delle donne, no? In tutta la provincia. E poi ha un ricordo particolare, perché dice, concludendo un po' la sua riflessione, che la lotta delle reggiane si è vinta, dice così, perché si è mobilitata tutta la provincia, non solo la classe operaria della fabbrica. Ora, il fatto che la lotta delle reggiane fosse stata una vittoria, sappiamo perché il discorso è stato ripreso anche recentemente, è molto problematico, ma è problematico da subito, in realtà fu problematico da subito, non solo oggi, è problematico nella memoria dei protagonisti del tempo, insomma. Nella sua memoria però, nella sua ricostruzione della sua biografia, lei dice che quella delle reggiane fu una vittoria. politica. Sì, ma è qualcosa di diverso dall'interpretazione, diciamo, canonica della sconfitta sindacale e vittoria politica. Nella sua memoria è una vittoria. E questa è la differenza. Dicevo prima, dicevo prima, la testimonianza è una reinterpretazione, non è un dato oggettivo, è una reinterpretazione. Quindi, insomma, è un po' questo il discorso. Quindi questo termine solidarietà, che è tornato di moda, insomma, almeno io l'ho ritrovato anche nelle tesi che stanno discutendo della CGL, è un altro elemento interessante rispetto a questo problema. Io non so, io credo che questi argomenti in qualche maniera rendano queste, almeno ho tentato di vedere come possano essere, considerare ancora valide il lavoro di Nadia, insomma. Dunque, prima, scusate, prima di dare la parola a Piera Vitale, che ci leggerà l'intervento di Elisabetta Salvini, che non ha potuto essere presente di persona. Devo leggervi un breve ricordo che ci ha mandato Lorena Mussini, una insegnante storica, non è potuta essere qua fisicamente anche lei stamattina per impegni di lavoro, quindi ci ha pregato di leggere questo suo breve ricordo di Nadia. Adesso vado a leggervelo. Cari colleghe e cari colleghi, per ragioni di servizio all'Istituto Storico Parli di Bologna, non posso oggi presenziare a questo convegno molto bello, che vuole essere un momento di riflessione e anche politica, oltre che culturale, dedicato a Nadia Caiti, amica, collega, compagna di un lungo percorso di impegno e di studi. La ricordo, il 17 giugno del 1984, lei e io eravamo insieme ai Seggi, in uno dei quartieri più popolari di Reggio, per le elezioni europee. Lo storico sorpasso del PC di Berlinguer sulla DC. Mi ricordo l'emozione di noi giovanissimi presidenti di Seggio a leggere e scrutinare i voti. Una valanga di voti del PC l'ho ritrovata anni dopo, come una collega nelle scuole superiori di Sassuolo, dove insegnava come me e si era subito impegnata molto nel nostro laboratorio di didattica della storia di Sassuolo, per trasmettere ai giovani la memoria e le storie del Novecento, anche e soprattutto attraverso la storia locale, potente prisma di lettura di tanti percorsi individuali e collettivi in cui risulta più motivante e appassionante immergersi e ritrovarsi. Non ho condotto insieme a lei ricerche sul campo, ma considero i suoi contributi fondamentali per il suo rigore di storica, di intellettuale, fine e lungimirante, che mi ha sempre colpito e affascinato. Con lei, anche dopo anni che non ci si incontrava più, bastavano pochi minuti per ritrovare quella sintonia politica, quella condivisione culturale che aveva caratterizzato la nostra gioventù di insegnanti militanti. È così che la ricordo e la porto con me. Rigore e passione a delineare il cammino da percorrere e i passi ancora da compiere. Lorena Mussini. Passo adesso la parola invece a Piera Vitale che ci leggerà appunto una storia mai neutra, la ricerca di Nadia è lunga tre decenni. Elisabetta Salvini, per quella difficile situazione che in tutti i settori di lavoro si stanno vivendo. Ha trovato difficoltà a poter prendere oggi un giorno di congedo, di permesso, perché è il primo anno che insegnerà e non è facile adesso nel mondo del lavoro che vengano considerate altre priorità. ecco perché ha dato a me il compito e l'onore di leggere quello che avrebbe letto lei stamattina. Una narrazione mai neutra. La ricerca di Nadia lunga tre decenni. Permettetemi di esprimere prima di tutto il mio grande dispiacere per non essere qui stamani a dare con la mia voce calore, enfasi e ritmo alle mie parole. Sono davvero dispiaciuta, ma da soli pochi giorni ho iniziato una nuova avventura che ancora una volta intreccia la mia vita, le mie passioni e le mie scelte professionali con quelle di Nadia. Ho accettato una cattedra di italiano, storia e geografia alle scuole medie, proseguendo così un percorso da molte e molti condiviso. Quello della ricerca precaria, frammentata, sottratta a giornate già piene di impegni, doveri e carichi di cura. Era così anche la ricerca di Nadia. Una ricerca più estiva, perché in estate non c'era la scuola e le giornate piene le permettevano di andare negli archivi, nelle biblioteche. Le permettevano di dedicare più tempo alla preparazione meticolosa delle sue interviste e alla stesura, lettura e rilettura dei suoi testi. Una ricerca che talvolta sembrava quasi rubata alla famiglia, agli studenti e soprattutto a se stessa, alla propria vita, al tempo per una chiacchiera con un'amica, per un momento di riposo, di pausa, rubata, a quel prendersi cura di sé, che Nadia tendeva sempre a rovesciare sulla presa in cura degli altri e delle altre. Non è facile ricostruire la ricerca di Nadia, un percorso iniziato ben più di trenta anni fa, negli anni Ottanta, con un'importante tesi sulla memoria dei rossi, la cui preziosità Romeo Guarnieri ha già illustrato con estrema attenzione e sensibilità e io aggiungo, con l'invito anche ad andare avanti e di questo veramente, questo è un passaggio prezioso. Nadia era una storica attenta al recupero della memoria e delle soggettività, una storica che si occupava principalmente di storia orale e che ha dedicato il suo lavoro di scavo e di analisi, indirizzandolo prevalentemente al recupero della memoria e del movimento operaio e in particolare di quello delle donne. Per questo ho voluto rimarcare anche nel titolo del mio intervento come la sua narrazione non sia mai stata neutra, una narrazione cioè che non si è mai nascosta dietro il falso maschile plurale, neutro, comprensivo anche del genere femminile, ma sempre indirizzata verso la ricerca costante e continua del recupero delle soggettività, qualsiasi esse fossero. È probabilmente anche per questo che Nadia si è approcciata all'oralità. In un suo percorso volto a recuperare la storia come ricerca è pertanto una scelta, scelta di portare avanti una narrazione tradizionale che ricostruisce la storia sindacale, operaia e politica, cambiandone però il punto di vista. La storia raccontata da Nadia infatti non sottopone al lettore e agli studiosi il punto di vista maschile ma quello femminile, quello di chi quella storia l'ha vissuta ma non sempre ha trovato spazi di ascolto né tantomeno modalità di racconto. Scelta di dare parola alle donne, di portare alla luce i loro vissuti di operaie, di militanti politiche, di dirigenti, di delegate, di sindacaliste. Di ricostruire un agire quotidiano che è fatto a sua volta di scelte, scelte professionali e di militanza, scelta di aderire o contrastare modelli, ruoli e codici di una femminilità imposta e stereotipata. In soggettività e memoria di alcune protagoniste dell'Udi, il quotidiano e l'eccezionale della militanza, saggio pubblicato all'interno del volume Paura non abbiamo, Unione donne italiane di Reggio Emilia, nei documenti, nelle immagini, nella storia, 45 82 Bologna, le 9 1993, scritto insieme ad Anna Pari, Laura Artioli, Dianella Gagliani e Laura Spinabelli. Nadia si fa esattamente questo, sceglie di raccogliere tranche di vita delle protagoniste per colmare i vuoti di una documentazione cartacea d'archivio e per costruire, e aggiungo io, consegnare ad uso di tutti e tutte altre fonti storiche in grado di confrontarsi e dialogare con quella più tradizionale. Si tratta di un lavoro prezioso quanto faticoso, un lavoro che va al di là dello scavo archivistico ma che si basa prevalentemente sulla capacità umana di tessere relazioni, costruire empatia, dare e ricevere fiducia. Le testimone di Nadia, che Nadia ha intervistato, si sono affidate a lei, hanno riconosciuto in lei lo spessore umano, prima ancora di quello professionale. E questo rapporto di fiducia e complicità, di confronto e ricordo, emerge con forza nei passaggi proposti da Nadia. Passaggi che ci permettono di cogliere, attraverso la soggettività e la memoria delle donne, gli aspetti organizzativi, politici, ideologici di un agire politico che intrecce e tiene insieme il piano della normalità della quotidianità e quello della extraordinarietà della militanza. Maria Grazia Ruggerini, che è qui e ringraziamo, nella sua presentazione del volume Dagli anni 70 al 2000, Donne della bassa reggiana, tra sogni e politica di ieri e di oggi, scritto da Nadia nel 2011 ed ed edito da Teorema, scrive che nelle tante ricerche sul movimento delle donne degli anni 70 date alla stampa negli ultimi anni, si ritrova un filo rosso rappresentato dal bisogno di libertà femminile. Un bisogno di libertà che si esplica non solo in teorie, ma in pratiche azioni volte ad affermare una nuova presenza delle donne nella sfera pubblica. Un bisogno di libertà che necessita anche di trovare le parole per dirlo. E Nadia, con la sua ricerca che si traduce in un racconto aperto e in un confronto, ha cercato di fare questo, di offrire materiale in grado di aprire e stimolare un confronto reciproco, uno scambio dialettico. Maria Grazia Ruggerini definisce l'ultimo libro di Nadia come il libro del dialogo e credo che non avrebbe mai potuto trovare una definizione migliore, perché tra le scelte di Nadia, chiara e centrale, era la sua attenzione alla trasmissione. Ricercare, raccontare, raccogliere e costruire una memoria era per lei finalizzato a due obiettivi fondamentali. Primo, attribuire l'adeguato rilievo al soggetto femminile. Secondo, non disperdere la ricchezza delle esperienze, dei vissuti, delle soggettività, delle emotività e delle passioni. E la consapevolezza di non dover disperdere questo prezioso patrimonio femminile implica necessariamente un'attenzione forte e sincera verso la trasmissione tra generazioni, che una volta avveniva attraverso i racconti in famiglia e nei luoghi deputati dalla comunità, e che oggi pare disperdersi e frammentarsi in percorsi non più lineari, non più certi e purtroppo non più considerati importanti. Nel suo ultimo lavoro documentario e ricostruttivo Nadia richiara esplicitamente che la grande ambizione che l'ha guidata è la speranza che le giovani generazioni, innanzitutto di donne ma non solo, provino il desiderio di conoscere un così ricco patrimonio di partecipazione diretta alla vita pubblica, alla politica intesa nella sua accezione originaria e pura, un'ambizione che in realtà un desiderio e insieme un'esigenza di lasciare un segno, un'eredità tanto importante quanto fondamentale nella costruzione di nuove soggettività, nuove esperienze che si devono tradurre in nuovo linguaggio, capace di raccontare quei vissuti, quelle emozioni e quelle passioni. Ed è proprio in questo suo desiderio e necessità che rivedo la Nadia che io ho conosciuto. A questo punto del mio intervento più che mai mi rimarico della mia assenza, di non potervi guardare mentre ripercorro il filo della sua memoria d'esperienza e di condivisione di ricerca insieme a lei. Ho conosciuto Nadia nel 2008 e insieme a lei e ad Anna Pari ho progettato e impostato il lavoro per la stesore del libro Creatrici di Storia, il movimento delle donne reggiane negli anni 70 nel ricordo di alcune protagoniste, edito da Fausto Lupetti nel 2014. Il libro è dedicato a Nadia, anche se di fatto lei è autrice del saggio tanto quanto lo siamo io e Anna, sua doveva essere la parte relativa al movimento intercategoriale, quella che io ho poi intitolato quando il femminismo entrò nel sindacato, la nascita del coordinamento intercategoriale delle delegate. Di quei pomeriggi di studio e confronto ricordo proprio il suo desiderio e la sua necessità di passare un testimone, di lasciare il segno del vissuto e della militanza delle protagoniste, nelle quali anche lei si rispecchiava. C'era la voglia di rileggere volantini, ciclostili e di dare storicità alla straordinaria esperienza dei corsi 150 ore delle lotte delle donne. Di quel partire da rivendicazioni private che via via, sempre più, acquisivano un forte significato politico. C'era il riprendere il percorso di ricerca già ambiamente sviluppato nei suoi saggi, sulle operaie delle ceramiche e sulla politica delle donne nel sindacato. C'era tanta conoscenza della materia e tanta umiltà d'ascolto. C'era una capacità di insegnare e trasmettere senza mai mettersi in cattedra, senza mai fare lezione. Annadia, creatrice di storia, narratrice di memorie. Così si è decisa la dedica all'inizio del volume. Al suo narrare, al suo creare. Creare storia, ricucendo le storie soggettive delle testimoni. Al suo avermi preso per mano e al suo avermi saputo trasmettere passione e consapevolezza. Annadia devo profonde riflessioni che mi sono servite nello scrivere le pagine che ho dedicata a questa storia tutta femminile di rottura e di protagonismo all'interno del sindacato. Sue sono le interviste a Lia Cottafavi, Lidia Giombini, Maurizia Morini e Carla Ruffini, che io ho poi ripreso nel libro. Si tratta di interviste vive in cui Nadia ha saputo ripercorrere con le testimoni gli anni dell'attivismo femminista e sindacale e contemporaneamente ha dato spazio alla loro memoria, recuperando anche quel privato più intimo e personale legato alla sfera dei sentimenti, della sessualità, della crescita individuale. Un privato che spesso tende ad intrecciarsi con la storia personale di Nadia, creando momenti di riflessione estremamente profondi e toccanti, emerge dalle interviste anche il rapporto amicale in tessuto tra Nadia e le testimoni. Questo a ricordarci che la storia dei movimenti delle donne del sindacato era anche la sua storia, la storia della sua militanza, del suo attivismo in quegli anni formidabili che lei stessa parlando con una delle testimoni definisce così. Furono anni così densi, così ricchi di incontri, di idee, di progetti che nascevano anche molto rapidamente. Credo che succedessero tantissime cose, ci fosse come un'accelerazione, non solo individuale, singola, personale, ma di un contesto che era verticosamente in movimento. Non tutto è più stato, temo, come non tutto è più stato, temo. Sono anni in cui avvengono questi incontri che diventano come dei moltiplicatori, per cui si creano contemporaneamente ulteriori incontri, ulteriori situazioni, ulteriori spazi. Gli anni della militanza e del femminismo, gli anni delle scoperte dei sogni, gli anni in cui i piani della narrazione, specie per le donne, si ribaltano, portando alla luce soggettività prima nascoste, imbavagliate e dimenticate. Gli anni del gender studies della scoperta di nuovi approcci storiografici. Nadia è figlia di quegli anni e la sua ricerca e la sua narrazione ne sono la prova. Per concludere, mi piacerebbe rileggere con voi le parole di Carla Lonzi, perché a me ricordano tanto quei pomeriggi di studio trascorsi insieme e perché in qualche modo mi restituiscono quella parte di Nadia che ho avuto la fortuna di conoscere. Il femminismo mi si è presentato come lo sbocco tra le alternative simboliche della condizione femminile, la prostituzione e la clausura. Riuscire a vivere senza vendere il proprio corpo e senza rinunciarvi, senza perdersi e senza mettersi in salvo. Ritrovare una completezza, un'identità contro una civiltà maschile che l'aveva resa irraggiungibile. Carlo Lonzi. Carla Lonzi. Bene, passiamo adesso la parola ad Antonio Canovi con l'intervento Memorie e oralità nella ricerca storica. Grazie. Buongiorno. Ringrazio per l'invito a questa giornata. Oltre all'invito anche il titolo mi hanno messo, quindi perfetto. Hanno indovinato perfettamente anche cosa poteva essere anche lo sguardo, il mio apporto alla giornata. Io partirei appunto da questo titolo e poi come mi piace fare, sono un po' ellittico quindi mi scuserete perché riprendo argomenti. Vedere appunto anche qualche discontinuità, qualche discresia anche da quello che magari ci stiamo dicendo perché il ricordo che abbiamo di Nadia quindi mi ricordo una donna che era in ricerca, che la sua biografia era in ricerca personale, quindi fatta anche di discontinuità, di contraddizioni e di, potete mai esausta da questo punto di vista, fino alla fine. E allora qui abbiamo un titolo generale che parla di militanza, io devo parlare di memoria e oralità e già qui penso che ci sia un elemento che dobbiamo dirci, non è la stessa cosa, facciamo finta che sia tutta la stessa storia e che continua da 30 anni. Non è così credo e comunque lo dice anche Nadia. Nadia, abbiamo citato diversi testi finora, riguardando un po' le cose, i libri che Nadia appunto mi ha piano dato nella sua produzione e lasciato, quindi ho trovato piuttosto importante come suo testamento intellettuale umano appunto la introduzione al volume di Marisa Iori, alla biografia di Marisa Iori, quindi che è del 2010, quindi lì c'è un testamento suo. E quindi provo un po' a spiegarmi, quindi cosa voglio dirvi, che intanto allora, si è parlato molto di Memorie dei Rossi, questo può essere già uno snodo che ci interessa, perché l'abbiamo appunto appena sentito anche raccontare da Romeo Guarnieri, perché abbiamo un volume che abbiamo visto anche a non nascere e quindi in Camera del Lavoro e perché comunque appunto c'è già in quel volume in realtà un elemento interessante proprio di, per fare una lettura corretta oggi, parlando di Nadia Caiti e di noi in qualche modo, di questo anche contesto di storici, militanti, appassionati e anche esploratori vorrei dire, quindi di, appunto, di storia della memoria, cioè se il valore principale di quel volume, per quanto mi riguarda, visto che è un volume a cui ho lavorato parecchio, lavorai parecchio, fu quello di dovesse confrontare quindi molto presto, perché oggi se ci pensiamo è del 96 comunque, quindi molto presto rispetto a quello che era successo prima, quindi al cambio di quelli che gli storici direbbero il regime di storicità, quindi un cambio comunque di contesto, quindi storico molto forte, e quindi cambi di paradigma interpretativi, perché la loro tesi, le due tesi, che infatti di nuovo si parlava di Rossi nelle tesi, la memoria di Rossi è già un titolo che prova a leggere un tempo che era già passato, era passato, quindi ci sono detto 15 anni e mezzo ci sono gli anni 80, all'89, il 90, il 91, quindi insomma, ecco, quindi in quel volume, appunto c'è, per me fu, diciamo, quel volume uno dei primi esercizi, in qualche modo, di archeologia della memoria, no? Nel senso che, quindi, per essere consapevoli quindi che in effetti c'era una modificazione, appunto, diciamo, radicale di quello che era anche il pubblico a cui era rivolta, quindi questo libro, e nel pubblico in realtà ci stava anche, in realtà, quello che era anche il risconto, quindi con la propria soggettività, che è un tema che per Nadia è importante, e poi, appunto, qualcosa di suo poi lo leggeremo anche dall'introduzione, appunto, al libro della storia della Marisa. Ecco, quindi in quel volume, appunto, fu quella, il primo, diciamo, cimento importante, come, no, rendere presente, appunto, nel 96, appunto, quel tipo di storia. Devo dire, ci fu in effetti una promozione, un patrocinio, quindi, devo dire, anche in maniera molto larga di vedute, appunto, da parte della Camera del Lavoro di Reggio Emilia. Perciò, appunto, si è reso conto che c'era un patrimonio da ereditare, no? E ho usato questo termine, ereditare, e ci siamo, oggi lo usiamo spesso, insomma, ed è giusto, va usato. L'età culturali, no? È una cosa che usiamo, perché abbiamo bisogno di, no? Di fare giusto delle scelte, quindi capire che cosa sappiamo tenere, cosa non vogliamo tenere, anche, e non solo non sappiamo tenere, ma anche cosa non vogliamo tenere. Allora, direi che, appunto, in quel volume, appunto, in quell'operazione, ci fu questo, questo tentativo, con delle risposte diverse, io questo lo tengo a dirlo, perché tuttora continuano ad essere diverse. Cioè, nel senso che la prefazione di Casali, la mia introduzione, cioè, diciamo, cose molto diverse. Cioè, nel senso che, da una parte, cioè, una, legittimo, però, quindi, era un riprendere il filo del passato e parlare al passato. Cioè, quindi, cercare di spiegare meglio il passato, che è quello che, va bene, si richiede in genere, diciamo, alla storiografia. Io credo, però, si chiede la storia a questo, con, diciamo, una, anche, spesso, con ipocrisia, perché, in realtà, alla storia si chiede quasi sempre di, in realtà, di dare delle risposte nel presente, però non si dice, devi spiegare nel passato. In realtà, la storia è interessante, perché, là dove racconta, descrive, quindi, riesce, quindi, a intercettare, quindi, anche, a raccontare con codici presenti, quindi, quelle che sono state le attese di futuro. E questa cosa, per Nadia, è diventata molto importante, però non è nata lì, Nadia. In questo libretto c'è tanta roba, in sei pagine c'è tanta roba. Perché Nadia dice che mentre faceva questa tesi, quindi stava dentro quel tipo di militante, che parlava prima Romeo, quindi, il fatto che, comunque, era dentro un partito, era dentro di una situazione femminile, quindi sindacale, politiche, studentesche. E quindi, comunque, a lei, appunto, veniva chiesto di fare qualcosa di intellettuale organico, si diceva, forse, all'epoca. E, in realtà, qualche dubbio, comunque, l'aveva. Insomma, se l'ha avuto subito. Lei cita anche questo, cioè, dice che per lui, per lei fu importante, in un passaggio, e dice, leggere un libro, un libro, una ricerca, era anche un libro, secondo me, scritto negli stessi anni, un po' prima, nel 77, altro anno, sempre interessante, che, appunto, di Anna Bravo e Lucetta Scarafia, sulle contadine delle Langhe. Quindi, donne, contadine. Un libro solo di storia orale, perché quello è il punto, che qui, appunto, abbiamo la storia militante, le memorie rosse, abbiamo, quindi, in realtà, il riferimento è sempre la storia politica o della politica, che è la grande dannazione che abbiamo in Italia, è la storiografia, quindi, e dall'altra, invece, appunto, c'era, invece, una storia orale, che faceva una cosa semplicissima, ma sempre, ogni volta, da dire, e da dirsi, e cioè quella che non partiva dalla gerarchia delle rilevanze già date, quindi non voleva riempire i vuoti, da colmare, non voleva, quindi, da questo punto di vista, offrire conferme, disconferme, però sulla base, appunto, di categorie interpretative, che erano quelle date dalla politica, dalla storia politica, dalle grandi organizzazioni, e comunque, da, appunto, comunque, da qualcosa che arrivava dall'alto, ma era, appunto, di vedere che come la soggettività, e quindi, in questo senso, parliamo di oralità, che si va, appunto, che diventa memoria soggettiva, no? Quindi, tu intervisti e crei la tua fonte, no? Quindi, crei delle fonti, in effetti, nuove, da questo punto di vista, e sono fonti che ti cambiano, queste gerarchie di rilevanze. Quindi, se, appunto, lei lo dice, perché ti dico questo? Perché lei è nata, sicuramente, ritenendosi una storica militante, ma il suo percorso non finisce la storica militante, dal mio punto di vista, cioè, è un'altra cosa, lei fa di significi storica orale. Poi potrebbe definire, forse, storica di gendere su questo, vediamo come le grazie, cosa dirà dopo. Però, diciamo, lei ci tiene a... Cioè, no, no, nel senso che io non... Già ha detto Elisabetta che cosa. No, per questo. Però lei, appunto, dice, appunto, rivendica questa... Fatti, in questa introduzione, appunto, rivendica, fa una storia anche della storia orale, in poche righe, ma, insomma, vuole iscriversi lì dentro. Allora, quindi vuol dire che è successo qualcosa. Certo, quello che è successo sicuramente è che lei si iscrive nella storia orale perché, in realtà, appunto incontra le donne, quindi è col lavoro con le donne che lo diventa, storico orale. Non con i militanti, ma con le donne, secondo me. Con i militanti, appunto, aveva già delle categorie pronte, aveva già delle risposte soddisfacenti a fine anni 70, nei corsi degli anni 80, ma dopo, appunto, queste risposte non bastavano. Non bastavano. Quindi, io direi che, appunto, abbiamo una Nadia che, appunto, che fa questa... Io direi che già in luce all'inizio a questo tipo di tensione e il problema è di dove collocarsi. Dove collocarsi. Allora, tutti quei differenti detti finora sono molto interessanti e molto veri perché, io penso che questo è il lavoro... Nel lavoro dello storico c'è sempre questo discorso di rispecchiamento perché anche chi usa le fonti più paludate nel mondo ma la scelta di un oggetto, scegli di quello piuttosto che un altro oggetto, poi, certo, ci sono anche le carriere accademiche di mezzo, però non è una scelta banale. Cioè, quando si parla di storiografia, appunto, si parla, in realtà, non solo di fonti ma di scrittura della storia. È una scrittura che chiede un pubblico, che pretende un pubblico, che pretende anche di conquistarselo, se non altro perché voglio che qualcuno mi leggano se scrivo un libro. Per cui, ecco, lei, allora, a questo punto c'è senz'altro una tensione morale, etica e sentimentale, direi anche, molto forte e non, mi sembra, non mai pacificata, appunto, che rispetto, appunto, a queste donne che lei ha sempre lavorato. se vediamo appunto la, perché poi c'è sempre lavorato, no? Nel senso che abbiamo la block, di cui si è già parlato, quindi, e non a caso, in queste introduzioni, lei usa la block, cioè, cerca come filo il libro sulla block, perché dentro ci mette dentro, appunto, tutto il corso della militanza, il corso della rottura delle discipline, accademie come erano, quindi, si sta tutti insieme, no? Donne che lavorano, donne che studiano, donne che ricercano, donne che lottano, comunque è sempre la donna, è quello il genere, e cita più volte la Rossana Rossanda. Allora, la, e dice una cosa, per me è importante, perché alla fine ha anche il coraggio di dirlo, cioè dice, citando la Rossanda, no? Quindi che Marisa ha una storia di militante complessa, quella che conosce non soltanto la prima esperienza femminile di sindacalizzazione diffusa, ma anche le prime nuove crisi dei sindacati, le questioni dell'unità, delle dirigenze, ecco, per le quali l'emancipazione è un continuo bisogno di sapere di più, un dover descrivere, decidere, scusate, della propria disciplina, sembra una contraddizione in termini, ma non lo è, dice la Rossanda. Anche le donne come Marisa, questa è la conclusione della Rossanda, conoscono, nel 86, dopo non so, vent'anni dopo forse potrà cambiarla, conosco appunto la caduta di alcune esperienze, ma la storicizzano, la laicizzano. Però quello è il punto, lei quindi si, ha bisogno anche qua, e lo dice, lo scrive finalmente, di confrontarsi con questo ideal tipo della donna forte emancipata, c'è un ideal tipo, e da questo punto di vista quindi in realtà, vuol dire, lascia un interrogativo, dice, come dire, c'è posto anche per altri tipi di, di biografie, e l'emancipazione in realtà non è a senso unico, ma dentro include tante, diciamo, tante diverse anche aspettative appunto di futuro. Allora, questo punto è quello con cui, diciamo, appunto, regola un po' di conti, quindi rispetto a questo suo lavoro trentennale, come si è detto, un po' di lavoro anche con le donne. Però poi dice delle cose appunto di metodo che ci interessano, perché, perché, mentre in cui appunto dice questa cosa, dice delle cose, dice varie cose, le dice a pezzetti, come forse si poteva dire, come si poteva dire, diciamo, si è potuto dire negli ultimi vent'anni, perché, per me, diciamo, comunque la memoria di Rossi è stata, forse l'ultima, diciamo, grande occasione per poter parlare di storia orale a Reggio Emilia. e dopo di che non si è più fatto questa cosa, dopo di che appunto il famoso, la cosiddetta revival della memoria è, almeno diciamo, da appunto una quindicina di anni che, diciamo, che è presente tra noi, però appunto è un revival della memoria che non, non, vuol dire, che risponde a dei bisogni che abbiamo, diffusi, ma è un revival perché non ha, non si confronta all'elemento logico in maniera, diciamo, corretta, consapevole, no, con quello che appunto è tutto il lavoro della storia orale, quindi il rapporto dialogico tra chi intervisa e intervistato, quindi questo ritorno continuo anche di flussi narrativi. E, diciamo, una risposta a una crisi della storia. Per quello che oggi, da un po' di anni, no, c'è tutta una, una grande discussione tra, nella storiografia, tra gli storici, molti degli storici che hanno anche frequentato la memoria oggi in Italia, almeno, hanno in qualche modo cercato di distaccarsi la memoria, ne hanno paura, la criticano, ma perché in realtà sono in crisi rispetto alla loro disciplina semplicemente, cioè quindi non è una risposta a quello, io credo. Il tema appunto è come tenere questa, io la chiamerei scelta, no, di storia e memoria, però devo dire, perché rendiamo atto alle parole di Nadia, lei lo chiama dovere di memoria e storia, quindi, in tutto c'è il tema del dovere, io la chiamerei scelta, però, evidentemente dovere è un tema di appartenza, il dovere, no, in quale tempo storico mi iscrivo, in quale anche memoria collettiva, non dico, a quale memoria collettiva appartengo, e allora, appunto, il lavoro di, appunto, di Nadia, però appunto, vuol dire, apre delle domande come sulla soggettività, sono quelle che mi interessano, sulla storia orale, è questa cosa qua, altrimenti, noi facciamo molto presto oggi, tutti i decennali, cinquantennali, centennali, dove c'è lo zero, decidiamo che è un anno importante, no, per parlare di un certo argomento, e guardo un po', quella non è memoria, però, in realtà, cioè, non è memoria intervistata, interrogata, questo qua è un tentativo di dare risposte, appunto, a una storia che ci disorienta, in cui non sappiamo più come leggere, ecco, quindi, non è una, quindi, diciamo, è una iattura, da questo punto di vista, anche se capisco che, poi, tutte le organizzazioni, gli studi storici, e così via, devono fare i conti con questa cosa, lei dice alcune cose che mi interessano, quindi, in questa introduzione, tra l'altro usa parecchio anche Jedlowski, quindi usa comunque, diciamo, la sociologia, anche, che ha studiato, non solo la storia orale, ma anche la sociologia, diciamo, dell'oralità, e ci sono alcuni passaggi che vorrei dirvi, quindi, a un certo punto dice, in cui lei si riconosce, ciascuno diviene il legittimo eroe di una biografia, di cui è testimone egli stesso, l'attenzione biografica genera quella autobiografica, ecco, quindi lei su questo si riconosce, lei ha un dialogo continuo, ma anche un conflitto, in realtà, perché nel dialogo, diciamo, c'è un conflitto con generazioni di donne, con i deltipi di donne, e con se stessa, evidentemente, anche, ma questo è normale, perché le nostre biografie non sono tutte, no, così tonde e perfette. Poi dice un'altra cosa, c'è la ricerca storica, lo dice lei questo, nell'interpretazione della società predilige l'attenzione degli elementi dinamici, quale terreno può risultare più interessante del processo costitutivo del sé, della soggettività, è un po', a farse un po' forse, diciamo, da tradurre, perché detta così, cioè, è quello che dicevo, le attese di futuro, cioè lei, qui dice, ad un punto, cosa dichiara? Dichiara che, comunque, la storia orale, appunto, la scelta, come approccio, storiografico, perché, appunto, è un approccio che, appunto, interroga la soggettività, direttamente, e quindi lì dice, credo, una storia, appunto, che in realtà, le parla di una dinamica, dico, le attese di futuro, così traduco, e da questo punto di vista, quindi, vuol dire, non le basta assolutamente, riprendere un filo di militanze, no, ma in realtà, vuole, vuole andare oltre, certo, soffre, soffre come soffriamo, tutto il nostro presente, cui siamo, e quindi, devo dire, fa anche un'osservazione, ci tengo a riprendere, in questa sede, in maniera eventualmente, no, propositiva, però fa un'osservazione molto forte, e critica il sindacato, sempre in questa introduzione, perché dice, adesso, devo trovare la frase, ok, ok, adesso lo troviamo, l'ho annunciato, quindi, adesso devo, ti crediamo sulla parola, sì, non so, mi credete, se non mi credete, penso che, la sua osservazione, quindi, a pagina 21, poi la ritroverò, è che, cioè, non è che mi interessa, è quella, è il fatto di, che cosa dice, cioè, fa una osservazione molto, dice, tutta questa, dice, tutta questa ricerca storica, che mi ci fate fare, no, a chi serve, dice, possibile che, appunto, sia lo SPI, quello che finanzia, e promuove, queste ricerche, quindi, come no, se si guardasse al passato, quando, in realtà, appunto, questo tipo di ricerca, deve servire il presente, nel presente, questa è la cosa che dice, e fa un riferimento, ovviamente, al soggetto che va più vicino, quindi, soggetto amico, che è quello del sindacato, però, è una cosa che mi interessa, da riprendere, perché, una, una cosa che, io ho trovato, come discussione, in un convegno del 2004, addirittura, a Roma, poi non l'ho più trovata, così, quello che fu fatto con Lucia Motti, sì, quello fatto, esatto, con l'archivio Camilla Ravera, con Gramsci, è un libro dedicato, un convegno, un libro dedicato, alla memoria della politica, così si chiamava, eh, e lì, allora, cioè, quello che veniva fuori molto bene, anche, diciamo, nei contributi, diciamo, quindi portati anche dall'Emilia, cioè, dall'Emilia Romagna, era appunto il fatto che, era venuto a meno, il punto di intersezione, in realtà, tra le biografie individuali, e le organizzazioni collettive, non si trovava più, no, e questo era un grosso problema, perché in realtà non bastava, risponde come si è fatto, e se vede di nuovo, Iattura, cercando delle storie esemplari, quindi, in qualche modo, quindi costruendo delle, no, delle santine, delle santine, no, quindi, adatte per, quindi, in qualche modo, sintetizzare delle storie, appunto, trascorse, con l'idea che questo, pathos, possa servire per, appunto, come spinta, per il futuro. In realtà, questo non basta, anche se ci sono, veramente, delle storie, che possiamo iscrivere dentro, queste anche vicende, anche eroiche. E allora, appunto, queste modi della politica, io credo che, sarebbe oggi, forse, il figlio da riprendere, penso che Nadia soffrisse di questa cosa qua, come penso non solo lei, in questa, in questa sede, in questa sala. Quindi, credo che, se oggi ho capito che oggi marito si continua, e ci saranno anche delegati, che c'è un'idea di, di storia, di ricerca nel futuro, credo che sia importante, ripartire, da quello che manca, non da quello che possono sembrare i punti di forza. Oggi manca tanta roba, senz'altro manca, quel punto di intersezione. Ecco, quindi, quanto manca? Manca, sei quasi, neanche 20 minuti, quindi hai ancora, no, ma io posso anche, potrei anche, ah, perché così tanto abbiamo, va bene. Va bene. No, voglio dire, allora, chiudo, dicendo che cosa, che, che, quindi, in effetti, Nadi ci può, e ci può servire a questo, quindi a, a ritrovare degli interrogativi, per, quindi, rispetto quindi a quello che è anche, non solo, il lavoro, quindi, della storiografia, il, senz'altro, quindi, anche, la ricerca, quindi, storica in senso più generale, ma in realtà, appunto, ci fornisce, con i suoi dubbi, anche i suoi interrogativi, quindi, in realtà, delle piste per, in realtà, quindi, rivolge domande, no, quindi, rispetto, rispetto alle nostre attese di futuro, sono quelle oggi che, credo che ci devono interessare, però, rivolgere appunto col fatto che, non sono, cioè, nei luoghi anche, giusti deputati, i luoghi deputati sono anche, luoghi in cui, la gente ancora voglia trovarsi, semplicemente per me, quindi, vogliono forse anche di organizzarsi, di appartenere, quindi, e questo credo che, appunto, perché oggi, è dai luoghi che dobbiamo ripartire, Reggio Emilia ha avuto, diciamo, una cosa che, va detto, perché poi, io un po' di queste cose, le ho scritte, ma non pubblicizzate mai, a Reggio Emilia, in questi anni, in giro, nel senso che, c'è stata, c'è la storia orale, in Italia, appunto, ha avuto, ha avuto, a Reggio Emilia, diciamo, è stato uno dei grandi laboratori, in Italia, la storia orale, questo è, diciamo, è riconosciuto nei volumi, nelle ricerche, diciamo, nelle geografie, ecco, diciamo, italiane, c'è sempre questa cosa, esce sempre, c'è stato, vuol dire, una crisi repentina, e rapidissima, di questa cosa, di fatto, è vent'anni che non parliamo di storia, di Reggio Emilia, però c'è una ragione, la ragione è anche il fatto che, appunto, questo paradigma di storia delle memorie, a un certo punto, è stato respinto, non voglio dire, dalla città, adesso, come città, è stato respinto, dalla politica, credo, cioè, qui da un'idea, ma non perché penso ai politici, proprio dalla cultura politica, di cui facciamo parte, e c'è stato un problema, che è stato rimosso completamente, qualche anno fa, avevo fatto anche alcune telefonate, a vari presenti qua, e mi ero accorto che c'era stata una rimozione reale, e cioè che, a un certo punto, appunto, con la vicenda, anche, appunto, diciamo, molto critica, no, rispetto, quindi, all'appartenenza, al mondo, alla resistenza, quindi il tema del chissaparli, ci fu una cosa, che in Italia, è stata la prima volta, che è accaduta, e poi questa cosa, me l'hanno ricordata, no, chi non è di Reggio, chi è anche, cioè il fatto che ci fu, quindi, l'utilizzo di testimonianze, come prova giudiziaria, questa cosa fu, micidiale, da questo punto di vista, quindi, come verità giudiziaria, oggi, tutto questo è un tema apertissimo, di grandi dibattito, perché, in realtà, questa cosa è tornata fuori, nel momento in cui, hanno, diciamo, in un processo, in Inghilterra, hanno ottenuto, quindi la magistratura ha ottenuto, con un arrogatorio internazionale, di prendersi, di assumere, quindi, le interviste, fatte, ai, ai, diversi militanti, dirigenti dell'IRA, no, quindi, del, quindi, dell'armata repubblicana, irlandese, che invece c'era il mandato, che doveva rimanere, no, insegretate, fino alla morte, di così, però, ci fu, da lì si era aperta la questione, poi oggi, tema della privacy, no, tutto quello che sappiamo, e quindi, quindi, dato che qui rappresento la situazione di storia orale, appunto, questi sono i temi su cui oggi, appunto, ci si anche confronta, però, Reggio, appunto, ha avuto questa anteprima, anche, che è stata, qualche modo messa, diciamo, nel cassetto, non più considerata, in realtà, questo, appunto, è un tema importante, perché, se ogni volta, però, a fine, tutto quello che produciamo, anche come storia della memoria, come memoria, come soggettività, comoralità diventa, no, quindi, un argomento politico-giudiziario, è chiaro che, questo è un problema, allora, appunto, chi faceva storia orale, si sentì, effettivamente, diciamo, veramente, diciamo, colpito, no, direi, nel suo, nel proprio statuto, di ricercatore, allora, quindi, questa cosa, citiamola, perché, anche queste, queste buonanze, sono servite, sono entrate, dentro un tribunale, sono entrate, quindi, ecco, quindi, credo, appunto, che, per me, appunto, questa giornata, insomma, sul filo anche di Nadia, appunto, è interessante, quindi, proprio, per le domande, per le questioni che ci permette di riaprire, credo che, non accadeva da molti anni, a Reggio Emilia, quindi, sono contento, anche, di essere stato invitato, grazie. Bene, passiamo adesso, la parola, Maria Grazia Ruggerini, un percorso di ricerca femminista. Credo sia giusto ringraziare la CGL, l'Isto Reco, e anche, comunque, le persone che si sono adoperate, in particolare ho presente Piera e Ramona. Io penso che Nadia meriti questa giornata, e comunque, appunto, mi sembra importante anche ringraziare chi ha pensato e ha organizzato per farla. Sono contenta che alcuni elementi tornano in qualche modo, anche alcune citazioni, direi, che vuol dire che abbiamo lavorato sulle medesime fonti, tra virgolette. io, essendo un vero ibrido nel mio percorso, non mi permetterei mai di dire che il mio è un discorso storico, non a caso ho chiesto che ci fosse un titolo di questa natura, no? Cioè, sul suo femminismo. Una cosa sulla quale ci siamo confrontate, credo a lungo, anche se lei era molto più rigorosa di me, sempre, e quindi su questo, soprattutto come storica, non mi lasciava passare niente, mentre io ero molto più pressapochista. Anch'io ho molto valorizzato l'introduzione che lei fa alla vita di Marisa. Infatti vorrei partire da una citazione, con le sue parole, con le parole di Nadia, dove dice, per me, storia e soggettività hanno rappresentato i perni centrali dell'indagine storica da allora, e il riferimento è alla ricerca fatta con le operai della Blocco, sulla Blocco, sulla quale tornerò, non solo per questioni narcisistiche, perché eravamo insieme, appunto, Alia, Piera, Ramona, eccetera, ma anche perché lei lo cita molto. E ho continuato, dice Nadia, a privilegiare il metodo biografico, incentrato, cioè, sull'interrogare, sull'investigare la memoria orale e autobiografica, raccogliendo con il registratore, in un rapporto duale, quindi, incomincia subito a sottolineare questo aspetto, il percorso biografico di uno o una protagonista, scandendo la singolarità della vicenda esistenziale, prestando il più possibile attenzione anche ai modi in cui quest'ultima riesce a intersecarsi con una dimensione collettiva. Ecco, il motivo per cui io sono partita da questa introduzione a lavoro, fabbrica, politica e famiglia, che è la vita, appunto, di Marisa Iori, è che lo trovo un testo breve e pregnante che Nadia pubblica nel 2010, dove, tra l'altro, lei sottolinea nella dedica la fatica di essere madri, ma anche figlie, e in questo riprende, secondo me, quel tema di genealogia femminile, che talvolta ha anche sottolineato, ma soprattutto che secondo me era importante nella sua vita, e lo era anche nelle relazioni con noi, direi, nella sfera lavorativa, negli studi, e nella vita privata. Ecco, mi pare che da queste pagine iniziali si riassumano, in queste pagine si riassumano, con lucidità, i nuclei di un lungo percorso di ricerca storica, incentrato sulla memoria e sulle fonti orali, ed è un percorso che io mi permetto di definire femminista. Ora, siamo in un'epoca in cui l'abuso delle parole è veramente pauroso, e qui però ne sono state definite parecchie, quindi, io me ne guarderei bene da definire quelle storiche, solo un punto sulla questione del femminista. Ecco, in un contesto comunicativo, quindi come l'attuale, dove l'abuso dei termini rischia di essere, di essere veramente, cioè le parole vengono stiracchiate come gli elastici, a seconda di come pare, no? Ecco, io sono convinta, però in questo, ovviamente non sto esprimendo un parere personale, in questo caso, per esempio, sto citando delle frasi di Silvia Federici, ma insomma, tante possono essere le teoriche, non necessariamente storiche, alle quali mi riferisco, che il femminismo abbia cambiato le metodologie, i processi di produzione della conoscenza, abbia creato nuovi oggetti di conoscenza, abbia reinterpretato il mondo, fino al punto che oggi la parola uomo non rappresenta più quell'universale che escludeva la metà dell'umanità. Questo ormai lo dicono, è coscienza anche di molti uomini, addirittura di associazioni di uomini, noi abbiamo Maschile Plurale, che lo proclama nel proprio statuto. e non solo ha imposto il femminismo una conoscenza partecipata e situata, come ci dicono anche qui varie teoriche, in questo momento pensavo a Donna Haraway, ma anche altre le possiamo citare, che spesso richiede un approccio interdisciplinale e intersezionale, una strada che Nadia, secondo me, ha praticato, sia pure lasciando sempre la preminenza all'approccio storiografico. e a quella prospettiva che con una parola che adesso mi sembra desueta, vorrei definire di classe, anche se non vorrei fare qui un rimpianto del bel tempo antico, perché forse non era così bello, forse non è così antico, quindi dico solo che ora si usa poco. Nadia ha sempre guardato a quell'intreccio, secondo me, genere e classe, anche magari non utilizzando queste categorie, però in maniera immobile, nel senso che sono categorie che si sono mosse nel corso del tempo, se penso appunto al tema dell'emancipazione, della liberazione, dell'empowerment, al quale lei appunto era arrivata. E ecco, quindi ha guardato al dibattito che c'era, e quindi guardare alla storia, mi riferisco ancora sempre in questo caso a Silvia Federici, alla storia da una prospettiva femminista, non può essere un'azione ridotta alla mera aggiunta di un capitolo in più rispetto a ciò che esiste, il processo di guardare alla storia da un posizionamento di genere, ci sforza a ripensare tutto da capo e interamente. Ecco, quindi in qualche modo io credo che gli spunti di una ricerca femminista sono spunti che smuovono l'universo del sapere, un universo appunto che è imperniato in realtà su delle categorie rigide, patriarcali, e io direi che questo si insinuano, ecco perché anche nella storia, a mio parere, questo è un passaggio di grande importanza, né è un caso che proprio nell'introduzione alla storia di vita di Marisa sia anche l'occasione per ripercorrere un cammino di ricerca storica che è iniziato, come lei dice, lo dice Nadia, con una storia tante storie, è vero, c'era stata la sua tesi prima, però non è un caso che secondo me lei citi quel punto di partenza, non perché è stato più bello, ma perché proprio da un punto di vista di donne ha creato qualche cosa di nuovo in quel momento, no? Perché questo operaio della blocca Reggio Emilia nel 1924-78 è stato il frutto, lei dice, della nostra fatica, ma anche della nostra passione. Probabilmente, ecco, qui c'è un elemento sentimentale, come si era detto, che non svilisce comunque il rigore della ricerca, l'intreccio sentimenti e capacità di sapere e di ricerca a mio parere è molto lucido. Ecco, e assume quindi un significato il fatto che vent'anni dopo si soffermi Nadia su quel lavoro della metà degli anni Ottanta e una fase del suo corso di vita, tra l'altro, in cui lei ha fatto una scelta di maternità durante quel lavoro, ce lo ricordiamo molto bene, ha attraversato la nostra ricerca quella vicenda. È un'esperienza che per lei come per noi e che abbiamo appunto partecipato a quell'impresa aveva significato fare ricerche in un collettivo di donne, ecco perché lo vedo, qui hanno citato molto il suo lavoro di tesi che è stato fondamentale, probabilmente era anche più bello per molti aspetti, ma qui c'è un elemento nuovo che è stato quello appunto di lavorare in un collettivo di donne che ha saputo avere uno scambio, forse ci siamo anche scazzate qualche volta direi, però c'è stato uno scambio, ecco, c'è stato uno scambio e uno scambio che adesso, perdonate le parole che per essere sintetica insomma le uso all'ingrosso, tra intellettuali operaie, sindacaliste, militanti, parole schematiche che racchiudono spesso nello stesso soggetto, cioè le operaie erano anche delle intellettuali, in realtà erano colte, insomma, però ecco per dire che era un luogo femminile, non lo definirei femminista in quel momento, femminile, di scambio molto importante, ecco, una esperienza di ricerca sulla storia e la soggettività di una parte significativa di classe operaia reggiana femminile e che a sua volta però quella ricerca era il risultato di una dinamica intersoggettiva del gruppo di ricerca e delle riflessioni che ne sono scaturite, noi ci abbiamo lavorato un sacco proprio su quelle cose, Eh sì, forse anche troppo nel senso che forse avremmo potuto fare un volume maggiore in poi, però va bene nel senso che proprio è stato un lavoro non dico patito ma certo molto elaborato, qualche momento anche patito. Ecco, Nadia rammenta sempre l'introduzione alla vita di Marisa riprendendo le parole di Rossanda che citava prima anche Antonio come nell'arco temporale che va dall'86 al 2010 siano proprio memorie e soggettività due nuclei tematici capaci di rappresentare quel filo rosso che lega e collega quasi un quarto di secolo di studi storici condotti tramite un metodo biografico incentrato sull'interrogare e l'investigare la memoria orale autobiografica raccogliendo con il registratore in un rapporto duale il percorso biografico di uno o di una protagonista scandendo la singolarità della vicenda esistenziale prestando il più possibile attenzione anche ai modi in cui quest'ultima riesce a intersicarsi con una dimensione collettiva. Ecco, quindi è un metodo di fare ricerca di utilizzare le fonti orali che non è stato però rivolto alle sole vite femminili infatti quando parliamo di una ricerca femminista non è detto che debba essere rivolta alle sole vite femminili perché guardare all'umanità composta dai due soggetti fondanti significa lavorare su similitudini e differenze anche tra i due sessi e i due generi e quindi significa ricostruire i soggetti a tutto tondo nella loro complessità nel loro essere soggetti complessivi nel loro intreccio tra sfera pubblica e privata e certo con un peso diverso per donne e uomini però anche gli uomini hanno una vita privata e hanno l'intreccio tra le due sfere anche se fatto forse malamente spesso tra la sfera lavorativa e familiare individuale e collettiva significa quindi guardare essenzialmente alle differenze categoria che poi lei secondo me traduce lei lei non solo lei comunque chi fa ricerca ha poi trasferito anche su altro e lo scopo è innanzitutto quello di dare la parola a protagonisti rimasti spesso oscuri nella storia nella grande storia quella con la s maiuscola attraverso storie ma sappiamo che la capacità e qui mi riferisco a Gilligan invece che appunto ha un'altra formazione è una psicologa la capacità di parlare dipende dalla qualità dell'ascolto dall'essere ascoltati ed è un atto fondamentalmente relazionale e quindi c'è anche l'elemento della relazione che voglio introdurre che poi mi serve per chiudere cercherò di farlo alla veloce è un percorso di ricerca in cui Nadia ha cercato di mettere a fuoco con un rigore e una meticolosità che l'ha contraddistinta e sulla quale abbiamo talvolta discusso perché a mio parere qualche volta rischiava di bloccarla questo suo di limitarla di limitare la sua creatività e capacità di studiosa tramite la voce di protagonisti di testimoni e non solo le esperienze materiali e sociali ma anche lo sfondo simbolico che le storie di vita erano e sono anche oggi in grado di rivelare lo sforzo quindi è stato quello e questo anche altre l'hanno fatto ovviamente che hanno lavorato sulle fonti orali di dar voce a chi poteva apportare un segmento in più e aprire un'angolatura in grado di correggere quanto occultato distorto invisibile silente cioè mettere in gioco uno sguardo diverso eccentrico in qualche modo come direbbe la De Lauretis e altre insomma qui ogni tanto io prendo parole da altre ovviamente che crea uno scompiglio tanto più che amava e guardava con interesse le soggettività di senzienti a Nadia piacevano molto le soggettività di senzienti e anche a noi sono piaciute abbastanza la ricomposizione e la visione del soggetto che si muove sulla scena della storia nella sua totalità nell'interazione di soggettivo e oggettivo che agisce contemporaneamente in sfera pubblica e privata producendo trasformazione nella vita personale e in quella pubblica e politica se è sempre importante diventa una condizione indispensabile e qui mi rifaccio anche al pensiero e alle frasi di Anna Rossidoria quando al centro sono le donne in particolare è proprio il costituirsi del soggetto politico femminile che avviene contemporaneamente in relazione alla società alla comunità e alla famiglia guardare alle donne quindi come punto focale della ricerca storica come soggetto portatore della differenza in contrasto con il significato negativo di privazione dal quale appunto le questioni erano partite le donne come un minus come per molto tempo era stato vuole dire innanzitutto avere davanti a sé una categoria non omogenea le donne ovviamente non come categoria omogenea come lei sa leggere appunto l'universo femminile per le diverse molteplicità e sfumature delle vite femminili e per la pluralità di identità e di ruoli che ciascuna delle donne sperimenta in se stessa questo è vero che vale anche per gli uomini comunque in buona parte anche se sono più rigidi in genere basti pensare a quanto è evidente la fatica a comporre la pluriattività il mosaico che caratterizza le vite delle donne tra produzione e riproduzione ce lo ricorda in vari passaggi anche Passerini ma anche molte altre inoltre lo sguardo rivolto ai soggetti femminili ha sollecitato quale conseguenza dell'interesse rivolto a quella metà del cielo esclusa dalla storia anche un'attenzione che fino a un certo punto era stata sconosciuta anche nei confronti di chi partecipa silenziosamente anche alle fasi di profonda trasformazione del processo storico cioè è una categoria di attore sociale che si mette in campo che si mette in gioco nella quale possono rientrare anche parecchi uomini e si guarda alla complessità dei comportamenti alle ambivalenze alle complicità e anche qui mi permetto di riprendere anche io Carla Lonzi perché bene o male ci si ricade anche se appunto siamo tutte più o meno appassionate di lei comunque possiamo ricordare appunto che la differenza è un principio esistenziale che riguarda i modi dell'essere umano la peculiarità delle sue esperienze delle sue finalità delle sue aperture del suo senso dell'esistenza in una situazione data e nella situazione che vuole darsi e se è vero che quella tra donne e uomini è la differenza di base dell'umanità è anche vero che quella differenza apre proprio anche nella ricerca storica uno sguardo sulle differenze per guardare il mondo attraverso una lente dove la sopraffazione cede al rispetto della varietà e della molteplicità della vita ecco quindi per sottolineare insomma dico questo come una lettura di genere sia una chiave interpretativa trasversale che a mio parere Nadia ha usato e non è separata e non è aggiuntiva appunto come accennavo anche prima che impone di mettere in primo piano anche la dialettica col maschile cioè questo stereotipo della femminista che caccia gli uomini che li dimentica eccetera eccetera è veramente uno stereotipo che io spererei che fosse finito ma non mi pare che sia veramente così anche se leggiamo le politiche dei tempi più recenti ecco quindi impone di mettere in primo piano anche la dialettica col maschile e per questo anch'io sono andata a rivedermi un passaggio dell'intervista che l'ha fatta un uomo a Valdo Magnani nella quale il testimone cioè Valdo appunto viene sollecitato a riflettere sulla differenza di genere tanto che si evidenziano bene alcuni nodi relativi alla complessa e difficile condizione in cui le donne anche quelle che militavano nell'organizzazione della sinistra anche le leader si trovavano a vivere nel fervore del rinnovamento che segnava la nascita della Repubblica Italiana del dopoguerra il nodo sul quale si sofferma Magnani in un passaggio della sua testimonianza ma sollecitato da Nadia è relativo alla sfera della vita privata alla negazione di qualunque autonomia e rispetto del privato il riferimento in quel caso è alla vicenda di Nilde Jotti in termini concreti ma le problematiche che solleva sono di portata generale e diventa quindi rilevante e più pesante per le donne là dove si evidenzia una vera spogliazione del piano personale allora lei sollecita e Magnani dice la visione del partito e la sua concezione erano del tutto totalizzanti il partito comprendeva tutto quindi la direttiva del partito doveva valere in tutti i campi e parlando poi di morale rigorista fa notare come questa riveli una mentalità particolarmente chiusa e retriva proprio nei confronti alle donne ecco dice questo è un indice di come nella questione femminile cioè nella considerazione dei diritti delle donne e della sua libertà di scelta della sua personalità fossimo molto indietro ecco credo che Nadia abbia sempre avuto quindi una forte attenzione alle nuove prospettive di ricerca e ai diversi punti di vista che si andavano sviluppando anche per quanto riguarda la storia delle donne soprattutto all'intreccio fra storia locale e trasformazioni generali del paese storia locale e storia generale tant'è vero che il volume del 2011 che lei cura Donne della bassa reggiana ha come sottotitolo un caso paradigmatico della storia nazionale e in questo testo entrano secondo me delle nuove variabili forse si tratta più specificamente di spunti che già c'erano e che qui vengono evidenziati approfonditi e mi riferisco a due punti in particolare il rapporto fra le generazioni e l'attenzione verso chi proviene da altre storie e culture un'attenzione che lei comunque ha avuto anche nella sua vita privata molto attenta molto interessata a ciò che proveniva da altri continenti e altre culture ma in questo volume emerge anche quel femminismo sindacale come parte del femminismo diffuso che poi sarà al centro delle interviste che entreranno a far parte del volume del 2014 di cui si è parlato curato da Appari e Elisabetta Salvini creatrici di storia in quel volume del 2011 comunque ecco lei getta uno sguardo dagli anni 70 al 2000 e si intrecciano sguardi diversi fra generazioni e culture c'è attenzione al passato alle lotte condotte dalle donne per il lavoro per la salute con tutte le implicazioni che questo tema comportava il tema della salute era in realtà un passepartout per parlare di sessualità quando era quasi non proibito rischiava di congelare anche l'assemblea delle donne parlare immediatamente di sessualità e quindi invece questo tema della salute lei ne ricorda le lotte come un tramite insomma per la presa di coscienza e di parola temi che si proiettano sull'oggi richiamando sull'oggi su quel 2011 parlo di quel 2011 in particolare richiama questioni che sono all'ordine del giorno in realtà anche oggi 2018 come quella della violenza maschile contro le donne quale indicatore di un patriarcato mutuato ma non sepolto che in realtà era sempre presente ma noi nella ricerca storica l'abbiamo incominciata a evidenziare molto tardi io penso che in questo forse dovremmo essere anche più autocritiche forse anche il movimento delle donne vabbè ma qui mi lascierei andare a un discorso troppo lungo che semmai avremo altre sedie opportunità di fare ecco l'attenzione al cambiamento ai processi di trasformazione alle conquiste sia pure parziali sono presenti in questo studio che mette in connessione gli anni 70 col nuovo millennio però qui mi pare di leggere e non solo fra le righe una sorta di consapevolezza critica che diventa disincanto e amarezza che serpeggia in diversi passaggi per il fatto che lei usa queste parole la sola rivoluzione che nella storia non abbia fatto scorrere sangue alla fine è divenuta un'affermazione parziale nella realtà non priva di scacchi e guardando al nodo del preteso universalismo dei diritti civili e sociali e politici lei dice nella premessa del volume afferma di panare un simile filo rosso potrebbe far emergere quanto sia tuttora distante la meta non essendo ancora risolta la questione della disuguaglianza di genere non può nemmeno trovare soluzione l'antica questione della piena acquisizione della cittadinanza per le donne e non solo ecco e poco oltre a conferma di una delusione che traspare nei confronti di un sogno di un mondo nuovo ci si chiede perché pratiche idee concezioni dei movimenti delle donne non hanno potuto incidere così a fondo nella politica fino a cambiarla non è una domanda ingenua è una domanda secondo me provocatoria in qualche modo è forte il bisogno di annodare i fili che emergono a partire dagli anni settanta per non perdere le tracce di contenuti e modalità di quella rivoluzione della soggettività e dell'azione collettiva delle donne per aprire o continuare una riflessione che parte dalle lotte femminili e dal femminismo al fine di trovare possibili connessioni e intrecci con la sfida di un mondo globalizzato da un lato sulle questioni della interculturalità della transculturalità e dall'altro della intergenerazionalità è sottesa l'istanza in questo testo del 2011 curato da Nadia che però non è un caso secondo me il parallelo che ho fatto con quello della Bloc anche questo è fatto assieme a donne militanti penso a Lucia Gardinazzi a Lana Scappi e al gruppo delle donne della bassa reggiana con le quali ha lavorato di contrastare il rischio di afasia e di spaesamento in un mondo globalizzato di carenza di obiettivi e desideri ecco nonostante quei diritti non si siano trasformati in servizi adeguati ai bisogni vale ugualmente la pena di proseguire nello sforzo di raccogliere materiali e testimonianze per Nadia perché ha fatto uno sforzo enorme in quel libro lei per cercare di rifondare la cultura delle donne nel nostro paese poiché e citando anteutrici dice Nadia solo quando le donne possono usare la loro storia documentata analizzata compresa e pubblicata come strumento nella lotta per se stesse e per le donne diventano soggetto della propria storia infatti lei veramente aveva fatto uno sforzo che l'aveva avvolta direi tratti che ritornano anche nel docufilm di Nico Guidetti che è parte integrante del libro che è stato reso possibile dalla collaborazione di diverse donne di alcuni uomini dove però anche seppure qui non mancano i toni di una riflessione amara e non soltanto per effetto della nostalgia cito sempre quello che c'è scritto c'è al tempo stesso anche la speranza e l'apertura al futuro che a mio parere è messa in evidenza soprattutto dalla storia di Khadija lavoratrice sindacalista donna colta peraltro immigrata dall'Algeria moglie e madre donna molto decisa che non molla in grado di mostrare un aspetto vincente di quell'identità complessa sfaccettata e plurima che delinea un mondo nuovo e una società italiana composita in cui le speranze di cambiamento non sono messe del tutto a tacere e qui mi avvio a chiudere perché il mio tempo l'ho esaurito e come suggerisco a questo punto di guardare al percorso di ricerca e di vita di Nadia come un cammino segnato dall'etica della cura l'avevo già accennato parlando della Gilligan qualche passaggio fa però qui vorrei che non mi equivocaste non parlo di cura in riferimento a quella diciamo dedizione femminile che secondo me ha pure segnato profondamente la sua vita ma qui faccio riferimento a una categoria che appunto ha messo in luce la Gilligan e che è stata per esempio ripresa in termini analitici da Caterina Botti secondo me recentemente in maniera molto interessante come un di più di pensiero e di pratica femminista una cura che non è quella dei valori tradizionali femminili materni bensì è un prendersi cura della rete di rapporti in cui tutti siamo immersi a partire da una percezione da una convinzione della fragilità delle nostre narrazioni delle categorie di letture delle nostre stesse vite farsi carico della differenza prenderne cura all'interno di una dimensione etico-politica una via per ripensiare anche l'ambito della morale io direi anche della moralità uso una categoria adesso desueta che rischia addirittura di maniera relegata al passato ma che temo sarebbe invece di grande forte attualità e anche nel campo della ricerca storica tutto questo si può tradurre in un invito a tenere fede a quei principi che erano parte della pratica storiografica che ha molto profondamente caratterizzato il percorso di ricerca di Nadia che permettendomi di rubare una frase di Maria Rosa Cutrufelli che poi ha preso da Don De Lillo anche se lei l'ha trasformata lei era una vera pescatrice di vite perdute a mio parere che ha segnato lo scambio che si è avuto con lei e di questi tempi si usa molto parlare di lezioni apprese ecco una è quella a mio parere di proseguire in un uso consapevole della storia e della memoria che siano capaci di narrare il passato per rivolgerlo all'oggi e guardare anche al futuro per aiutarci a non restare imprigionati in una cieca tirannia del presente come hanno detto storici ben più importanti da Gallerano a Giovanni De Luna rischiando di restare privi di speranze impigliati nei tempi bui che incombono grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti